La delusione per la battuta di arresto di Augusta è ancora tanta inevitabile per come è maturata. Triplo vantaggio dei siciliani, superlativa rimonta del Cristian Barletta e poi la beffa nel finale. L'amarezza per la sconfitta va ora trasformata in carica agonistica in vista del secondo impegno esterno consecutivo nel campionato di Serie 2. I biancorossi di Antonio Dazzaro infatti saranno di scena domani pomeriggio a partire dalle ore 16. Sul rettangolo del palapertine di Noicattaro contro la Virtus sarà non solo un derby di Puglia ma anche una sfida tra matricole che torna anche in questa stagione dopo l'appassionante duello che ha caratterizzato lo scorso campionato di Serie B vinto proprio dal Cristian. Storia vecchia in ogni caso, quella nuova mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Per noi è importantissima perché siamo partiti con l'obiettivo salvezza però stiamo giocando un posto in finale di Coppa Italia. Se facciamo bene le prossime tre partite probabilmente saremo anche noi a fare questo grandissimo evento. Da parte loro sicuramente dopo l'anno scorso c'è tre partite, tre sconfitte verranno col controllo fra i denti quindi dobbiamo aspettare un ambiente molto difficile. Le due contendenti dopo dieci giornate di campionato sono separate da un solo punto in classifica. 14 quelli del Cristian in attesa dell'esito del ricorso presentato contro la sconfitta in terra ad inizio mese con il San Michele. 13 invece quelli collezionati dal Noicattaro in nove giornate. Chi vince, inutile nasconderlo, compie un sostanzioso passo in avanti verso la zona pre-off e continua a sperare in un piazzamento tra le prime quattro che vale al termine del giro d'andata la qualificazione alla finaletti di Coppa Italia di Serie A2. I biancorossi di Antonio Dazzaro potranno contare su tutti gli effettivi a disposizione compreso Capitan Capacchione che aveva saltato la trasferta di Augusta per squalifica. Resterà fermo ai box nel weekend infine il campionato di Serie C1 di Calcio 5. La Floriger Fuzzalandria, reduce dalla sconfitta di misura rimediata sul rettangolo delle Aquile Molfetta contro la terza forza del girone, tornerà in campo sabato 3 dicembre e affronterà in trasferta il Trulli e Grotte, diretta concorrente della lotta per non retrocedere.